Siamo tornati dalle vacanze, siamo tornati a scuola e ora di tornare da Acqua e Sapone Andiamo a fare shopping insieme! I Provenzali è il brand che da sempre è attento alla qualità e alla sostenibilità dei suoi prodotti Prova l'olio di mandorle e dolci in offerta a 4,75€ Ottimo elasticizzante per la pelle particolarmente secca E per una pelle morbida e levigata prova l'olio di karité a soli 5,75€ I Provenzali, naturale, biologico, sostenibile La schiuma da barba Nivea Man e le varianti Sensitive e Sensitive Pro è a 1,99€ Prova anche il dopo barba e la crema Sensitive, li trovi a 5,49€ ciascuno E sarò d'acqua e sapone con due prodotti Nivea Man di cui almeno un dopo barba o un cura viso uomo In omaggio una doccia Nivea Man Deep da 250ml Questa è la rutina a cui mi piace tornare Offerte incredibili, prezzi eccezionali e un assortimento tale da farmi pensare che mi è sempre sfuggito qualcosa Acqua e sapone, oltre la convenienza Grazie a tutti